Divertimento, spettacolo e shopping sotto le stelle sono questi gli ingredienti per la riuscita di una serata all'insegna della riscoperta del centro storico, vero e proprio centro commerciale naturale, della città di Teramo. Sabato 5 luglio, apertura serale dei negozi per la notte dei saldi, promossa dal centro commerciale naturale shopping in Teramo Centro e dalla CNA di Teramo. Quest'anno c'è una novità di una scuola di Visual Lab GK di San Benedetto che è venuta in città appunto per allestire 5 attività commerciali, le vetrine delle attività commerciali, si è offerta gentilmente appunto allestire queste vetrine, tutte lo stesso tema per cui il tema sarà uguale per tutti la notte dei saldi. Sento in giro che c'è molta attesa appunto per questi saldi anche se per noi purtroppo non sarà la panacea dei nostri problemi. Musica Live in destrezza nel centro storico, i negozi aperti fino alle 24 ci auguriamo oltre e dalle 16 alle 24 appunto chi segui la volpe trovala sulle vetrine che otterrà un ulteriore sconto dai prezzi già scontati. Evento patrocinato dalla Camera di Commercio di Teramo e dall'amministrazione comunale. Facciamo la notte dei saldi, i commercianti hanno la possibilità già da sabato di applicare i saldi che poi saranno operativi da lunedì quindi di fare un piccolo anticipo, di rimanere aperti fino a mezzanotte. Hanno la possibilità sicuramente di creare degli eventi collaterali come alcuni commercianti stanno facendo e quindi di creare un richiamo maggiore per eventuali possibili clienti. Noi speriamo che nei prossimi anni piccoli segnali ci sono anche di ripresa del PIL e nei prossimi anni ci possa essere un miglioramento dell'economia che naturalmente va anche a beneficio soprattutto delle attività commerciali, dei poli industriali. Io credo che il commercio in una città sia il polmone economico che la porta avanti quindi sicuramente è importante.